Il campionato di prima divisione Girono Questa sera si spetteranno, i pubblicani ricevano nel 1955 il motobasket 2019, con il numero 4, Patti, con il numero 5, Corini, con il numero 6, Patti, con il numero 8, Sartori, con il numero 9, Cozzana, con il numero 10, Vagliata, con il numero 11, Bellana, con il numero 12, Neve, con il numero 13, Bussella, con il numero 18, Rossi, Corcio, Rossi, a completatore Pellorini. Musica di generale, 1955, con il numero 4, Lava Pagliari, con il numero 5, Massimo Stotti, con il numero 7, Marco Cavallaro, con il numero 8, Capitana, Daniele Santi, con il numero 10, Riccardo Morandolo, con il numero 12, Marco Scussolini, con il numero 13, Giuseppe Rettunio, con il numero 14, Alberto Sampioni, con il numero 15, Paolo Dei e con il numero 16, Semba, non abbiamo niente. Buona sera. Buona sera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.